Trucco per migliorare le tue foto in 5 secondi con Gimp Bentornati ragazzi nel canale Veroero Academy Io come sempre sono Alex Nel video di oggi vi farò vedere un trucco Un video estivo, veloce Perché immagino che siete in vacanza Magari siete sotto un ombrellone Magari siete su un sentiero in montagna Però il canale Veroero Academy non si ferma mai E vi voglio regalare questo piccolo trucchetto Per migliorare le vostre foto veramente in un attimo Allora ragazzi condividiamo subito il nostro desktop Il nostro programma di foto di Tocco Gimp Link in descrizione per il download Allora ragazzi intanto prima cosa iscrivetevi al canale Mi raccomando ho visto che la metà delle persone Che guarda quotidianamente i miei video Non è iscritto al canale Quindi ragazzi se volete che continui a fare Ovviamente dei video gratuiti Mi raccomando cercate di sostenermi con un like E con l'iscrizione al canale Allora ragazzi piccolo trucchetto veloce Ve lo farò vedere ve lo spiegherò ovviamente Come al solito prima in maniera Da spiegarvelo e poi ve lo farò vedere Ovviamente in 5 secondi Ok e potete applicarlo a ogni vostra foto Allora ragazzi andiamo a prendere questa foto Ovviamente sempre scaricata da Pixabay Ho preso due foto di esempio Che ho già usato per altri tutorial Allora prima immagini di questa bandiera Allora ragazzi cosa andiamo a fare Andiamo a fare a duplicare Prima cosa ovviamente sempre duplichiamo Poi andiamo su colori Auto equalizza Allora ragazzi questa funzione qua Andamento automatico del contrasto Vedete Praticamente lui cosa fa Con questo comando qui Praticamente mette ogni valore Della luminosità Nello stesso numero di pixel Di ogni altro valore Della luminosità Cioè praticamente vi amplia Lo spettro della luminosità Ok presente nell'immagine E questo cosa vuol dire Vuol dire che praticamente Vi aumenta il contrasto Chiaramente dovete stare attenti Dovete fare una regolazione A posteriori Perché in molti casi Ovviamente vi sparerà i colori Ok in maniera non realistica Però con una regolazione Ovviamente andrete sicuramente A migliorare Quindi equalizza Vedete Lui ha fatto questo Vedete Lui ha fatto questo movimento qua Vi ha sicuramente Ampliato Il contrasto Però ovviamente Magari in maniera troppo forte E allora voi andate Ovviamente su questo livello Su cui avete agito Con l'equalizzatore Andate a dargli una Opacità minore Magari del 50% Vedete Adesso il risultato Da questa immagine iniziale Abbiamo aumentato il contrasto L'abbiamo nettamente migliorata Con questa seconda Vedete ad esempio I colori Su questo edificio Vedete Come sono molto più Come sono proprio tirati fuori No? Come è tirato fuori Proprio il marrone E anche ad esempio Il cielo Guardate le nuvole Ok? Molto più sbedito Guardate le nuvole bianche Come vengono fuori Ok? Andiamo ora ad applicare Questo stesso concetto A questa immagine qui Che è più scura Ok? Andiamo a vedere cosa succede Quindi duplichiamo Vediamo quanto ci mettiamo È veramente 5 secondi Duplichiamo Andiamo su colori Auto Equalizza E vedete come In questo caso Ci ha sparato proprio Ok? Essendo un'immagine Molto scura Lui ci ha sparato Perché ovviamente Ha tirato fuori Tutta la luminosità Ovviamente qui Andremo a dare Un'opacità minore Quindi andremo a dare Che so Un 20% E vedete che Da questa immagine iniziale Molto scura Vedete che Non si vedono neanche Queste parti Guardate questa parte Qui dell'edificio L'abbiamo tirato fuori Vedete? Quindi proprio Adesso si vedono addirittura Anche le finestre Ok ragazzi? Bene per questo video è tutto Spero che possa essere stato d'aiuto Venitemi a trovare Su mio profilo Instagram Ragazzi Chiedetemi ovviamente Dei Delle nuove Dei nuovi progetti Dei nuovi argomenti Che volete che io possa trattare Ragazzi In questa estate Io continuerò a postare qualcosa Ovviamente Compatibilmente con i miei impegni Spero che voi Possiate passare Veramente una estate Serena Grazie a tutti E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao